Abbiamo moltissime cose in programma, non ultima quella di salutare soprattutto le sinergie istituzionali e a tal proposito vorrei però ricordare i patrocini che mi sembrano indispensabili. Quindi li visualizzo insieme a voi e li leggo. Intanto parto chiaramente dal Ministero della Salute, lo vedete qui, scorro tutti i patrocini, ANCI, Comitato delle Regioni dell'Unione Europea, Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, Istituto Superiore di Sanità, Comitato per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università di Roma Tor Vergata, Osservatorio Nazionale per la Salute nelle Regioni, ancora Health City Institute, CEIS, Censys, Cora Search, Crea Sanità, Fondazione Umberto Di Mario, AMD, SID, SIE, SIMGE e Diabeta Italia. Insomma tantissimi patrocini e soprattutto dicevamo tante cose preziose prima, a proposito di Villa Mondragone che come avete capito anche dalle parole diciamo del Professor Lauro è sede di rappresentanza dell'Università Tor Vergata e di Ibda Foundation. Allora a questo proposito io vorrei dare la parola al Rettore dell'Università di Roma Tor Vergata, il Professor Orazio Schillaci, che ringraziamo tra l'altro di essere con noi dalla sede del Rettorato. È con vero piacere che porto un saluto d'indirizzo a questo tredicesimo forum di Ibdo da parte dell'Ateneo di Tor Vergata che ho in questo momento il privilegio di rappresentare. Questo è sicuramente un evento importante organizzato dalla Fondazione Ibdo e dall'Intergruppo Parlamentario Obesità e Diabete e il tema risulta particolarmente sfidante e significativo, soprattutto in considerazione di quanto il lockdown abbia influito sullo stile di vita e sulle nostre abitudini, anche alimentari. Questo è pertanto un argomento interessante e che la comunità scientifica nazionale e internazionale dovrà affrontare. Da sempre l'Ateneo di Tor Vergata ha contribuito con produzione scientifica e qualificato apporto e competenza dei propri ricercatori e docenti a collaborare con la Fondazione per costruire e diffondere una corretta strategia di prevenzione e del controllo delle patologie croniche nel loro complesso. Per questo mi fa grande piacere dare merito al Professor Renato Lauro, già Rettore della nostra Università, per la costante e meritoriazione che ha svolto in questi anni quale Presidente della Fondazione. Il ruolo della scienza e delle organizzazioni sanitarie su questo tema pertanto dovrà essere particolarmente forte. Lo stile di vita residenziale che deriva dal forzato obbligo che abbiamo avuto in questi mesi di lockdown dovuti alla diffusione della pandemia di Covid-19 ha certamente modificato per un periodo lungo le nostre abitudini anche alimentari e questi effetti saranno oggetto di valutazioni scientifiche e comportamentali nei prossimi mesi. Rimane comunque forte l'esigenza che il sistema Paese e le sue articolazioni scientifiche ed organizzative debbano perseguire con una sempre crescente attenzione di intensità professionale anche in termini di investimenti riguardanti il proprio capitale umano un approccio di promozione della salute e di sensibilizzazione della comunità nazionale sui vantaggi collegati all'adozione di stili di vita sani che devono riguardare sia l'eliminazione dei fattori di rischio di per sé modificabili che l'assunzione di corretti comportamenti fisici ed alimentari. La terribile esperienza epidemiologica di questi mesi che ancora stiamo vivendo ci ha insegnato che investire sulla conoscenza scientifica e sulla salute pubblica rappresenta l'unica efficace risposta per la realizzazione di progetti di cura in grado di garantire, anche a prescindere da situazioni emergenziali, percorsi assistenziali centrati sulla persona e che tengano conto delle varie ed articolate fasi del processo di cura. Le sfide che le diverse malattie metaboliche rappresentano per il sistema sanitario nazionale hanno visto da sempre la Fondazione IBDO in prima linea nel fornire risposte di alto spessore scientifico ai bisogni clinici dei pazienti affetti dalle diverse gravi patologie e per questo abbiamo tutti noi l'obbligo di sostenerla e ringraziarla. Grazie a tutti per questo evento e auguro un buon lavoro e sono certo del successo che, come per gli scorsi anni, anche quest'anno avrà l'iniziativa. Dunque, sinergia istituzionale tra IBDO Foundation e Università di Roma Tor Vergata.